Sul fronte della trattativa dello stadio Bonolis, il sindaco Gianguido D'Alberto ha espresso rinnovato ottimismo per una conclusione positiva e tempestiva dell'accordo, dopo che le parti sono tornate a dialogare. Tematica trattata dalla Domenica Sportiva di Rete 8, l'ex presidente del Teramo Calcio e gestore dell'impianto di Piano Daccio, Franco Iachini, ha affermato «vedo una probabilità del 50% che la trattativa si concluda con successo. La nostra richiesta rimane ferma, l'operazione non graverà sul bilancio comunale, in quanto i proventi commerciali copriranno i costi dell'acquisto della concessione, mentre per il sindaco di Teramo Lente ce la sta mettendo tutta per risolvere nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile la controversia». «Sì, la nostra volontà l'abbiamo già espressa con atti e con fatti e azioni per chiudere definitivamente la vicenda della convenzione, dopo lo scambio di battute a mezzo stampa di qualche settimana fa, le trattative, il dialogo sono tornati nei giusti canali, appunto di un confronto, quindi la volontà è di chiudere e stiamo cercando di raggiungere un punto d'accordo, un punto di intesa per il bene ovviamente di tutti, per il bene della comunità sportiva e non solo». «Secondo i discrezioni, le discussioni finanziarie sul tavolo si concentrano su una richiesta di 4,5 milioni di euro da parte di Iachini attraverso la sua società Soleia e un'offerta del comune di 4,2 milioni con un pagamento anticipato di un milione». «Siamo ancora nella fase di strutturare le perizie, gli accordi appunto si raggiungono sulla base poi di intese, quindi possono essere costruiti e strutturati laddove siano rispondenti ovviamente alla legge, al rispetto anche degli equilibri finanziari, anche in modo più articolato, quindi il numero è importante ma può essere importante anche la modalità con cui si struttura un accordo». «Vi siete dati una data?» «Ma io credo che intanto l'intesa tra le parti, prima dei passaggi formali in Consiglio Comunale si debba raggiungere subito, nell'arco di pochi giorni, entro sicuramente il mese di maggio ma sicuramente anche prima si proverà a chiudere».